Tutto è pronto, ultimo check anche ai due portieri e ci siamo, è iniziato il match tra Sinunghese e Pianese Il corsetti con la testa allontana, ma al primo arrivare di nuovo Arras che può provare il cross, il cross che arriva, la deviazione da parte del numero 11 Islamai, Ambrogio Il cross a cercare Arras, lo trova in qualche modo, non riesce ad impattare forte Lato da Pietro Battista, anzi perdono da Cerofolini, la verticalizzazione a cercare Arras, Arras il pallonetto su Marini, Fanetti che allontana Per ripartire il numero 11 Islamai, dentro per Arras, chiude corsetti sulla palla, sulla palla secondo il direttore di gara Ancora Pianese con Zini, Simeoni, prova a scambiare, attenzione Zini, in area di rigore, Zini non calcia subito, rientra sul destro Marini La palla che è ancora buona, attenzione Ambrogio, scivola, e allora Pietro Battista, prova ad allontanare, attenzione a Simeoni su di lui Mangiarate ancora in possesso della palla, va a cercare la verticalizzazione per Sciacca, Sciacca contro Wroblewski Bravissimo ancora il numero 1 bianco-nero, ti allontana Marino, mette giù Pietro Battista, prova il filtrante, arriva Cerofolini, la conclusione di Cerofolini Ancora non è stato segnalato il recupero Mario, e no, e non c'è, non c'esserà il recupero in questo primo tempo Termina così, 0-0, i primi 45 minuti tra Sinalunghese e Pianese E si riparte se 45 minuti sono stati iscritti, adesso 45 da scrivere con il possesso della Sinalunghese Interrotto subito con Marino che va a recuperare la palla, Arras, di mal auspicio questo fattore E chiaramente per Pagliuca che sia di buona spiccia, il cross in mezzo, allontana in qualche modo Arras, la vuole Marini che si immola, non è finita perché la palla che rimane nei piedi di un giocatore della Pianese E poi Fanetti che mette in calcio d'angolo Mangali torna indietro da Ambrogio, pensa il cross, lo effetto a cercare Arras, allontana Corsetti Il primo ad arrivare però è Chinnici, contro cross con il sinistro, cercare Arras Palla che rimane lì, proprio Arras che stacca di testa, contro cross, errato, Sciacca che forse rientra dal fuori gioco Tutto regolare, Reddy, Reddy, il sinistro di Reddy, vola Robleschi e poi allontana la difesa Chiama attenzione in area di rigore, la palla è dentro, stacca Mangali, para Marini Verticalizza per Arras, ancora Arras, lascia Simeoni che entra in area di rigore Simeoni, Simeoni, ritarda il tiro, arriva adesso, il tiro di Simeoni Eccolo proprio Arras a tornare indietro da Chinnici che non riesce ad allontanare Allora Bucaletti, prova ad intervenire, bravo, riesce a recuperare la palla Bucaletti che va giù, tutto regolare per il direttore di gara Ed eccolo qua, triplice fischio del direttore di gara qua al Carlo Angeletti Termina 0-0 il derby tra Sieno Unghese e Pianese Termina 0-0 il derby tra Sieno Unghese e Pianese